Vogliamo vedere il piano industriale di Thyssen Group. Thyssen è naturalmente un grande operatore europeo, questo è comunque un dato positivo, però noi vogliamo essere tranquilli che l'operazione non sia solo finanziaria, deve essere un'operazione industriale che dà un futuro forte a Terni. Quindi Terni è un pezzo essenziale della siderurgia italiana e del sistema economico italiano. Quindi noi abbiamo chiesto sia a Autocompus sia a Thyssen di venire a Roma a un incontro chiarificatore col governo circa le prospettive industriali di Terni. Per noi questo è essenziale, qualsiasi giudizio dipende dal piano industriale che Thyssen presenterà.